E' arrivata dalla Grecia, come attesta la targa identificativa, posta sulle pinne anteriori. E' lunga più di 90 cm, pesa poco più di 70 kg e rientra nella specie caretta caretta. E' l'ultima tartaruga liberata nelle acque di Biceglie dai volontari del centro tartarugue WWF Puglia di Molfetta. Per mesi si sono presi cura di lei a seguito di una cattura accidentale. L'hanno chiamata Sigillo, a liberarla alcuni studenti di Bari poco più che 15 anni che non avendo assolto all'obbligo scolastico stanno seguendo un corso di formazione che li prepara a lavorare con il mare. E' stato un successo soprattutto per loro perché hanno vissuto il mare, lo hanno vissuto in un momento particolare e lo hanno vissuto anche con un animale particolare, cioè con le tartarughe marine. Liberare una tartaruga di quasi 90 cm di lunghezza carapace non capita tutti i giorni. Sono esemplari importanti, sono esemplari anche molto rari che troviamo, considerate che una lunghezza del genere ci capita una volta ogni 2-3 anni. Quindi i ragazzi sono stati entusiasti e noi d'altra parte siamo particolarmente presi perché comunque vediamo nei loro occhi una certa sensibilità e soprattutto la voglia di ricercare queste emozioni. Dall'inizio dell'anno sono circa 100 gli esemplari di tartaruga liberati dal WWF di Molfetta salvati dai diversi pericoli del mare. Quanto alla tartaruga Sigillo, fanno sapere i volontari, attendono di scoprire notizie più specifiche e dall'associazione greca Archelon di Atene, che l'ha presa in carico la prima volta quando è stata tratta in salvo circa 4 anni fa. È stato molto piacevole liberare la tartaruga. Sicuramente non è da tutti i giorni trovare una tartaruga di 80 kg. Mi è piaciuto molto perché alla fine una tartaruga così grande non l'ho mai vista e vorrei riprovare questa emozione. Grazie a tutti.